Oh no! Goblin ha rapito un ragazzino! Sorpresa! Agente, io non mi sono accorto! Mi sono confuso! Te l'avevo detto di non comprare quel costume per Halloween! Se ti è piaciuto il video, cosa aspetti? Lasciaci un like, commenta il video e iscriviti al canale! Bastardi dentro! Ogni settimana, nuovi video!